ciao ragazzi io sono red e siamo finalmente arrivati alla fine di questo terrificante 2020 quale modo migliore di festeggiare insieme questo 2020 se non di guardare un gigantesco montaggio fatto personalmente da me con tutte le migliori clip e le migliori sciocchezze dette su questo canale insieme a voi vi lascio dunque al video vi ricordo di controllare in descrizione per tutti i link vi auguriamo noi dallo staff monopoli e dal vostro reddone nazionale buon capodanno e buon anno nuovo sperando davvero che sia meglio di quest'ultimo di anno del nare lo stai guardando scusa che è essenziale per evitare che voi spariate in faccia a qualcuno andiamo avanti ancora molto a urlare io abbi si scherza ovviamente impeccabile e soprattutto gustosa croccante piacevole l'orologio ti odio tantissimo ti scherzo ovviamente ciao ragazzi cosa c'è a monopoli non lo so molto bene non è stato pagato capirete tu perdi il fuoco e io bestemmio il nostro un bel feeling quando lo prendete in mano un po' l'in... vaffanculo dai che poi perdo il filo potrebbero dire eh ma sarebbe meglio in metallo che così non si rompe ok grazie tu sei un prodotto mediatico se tua zia è un prodotto mediatico no no è per te questo polpo non è per te la pestola flint look flint lock flint co parley parley dove cazzo dovete infilare le lontananze eso la cura del dettaglio diagonale diagonale siamo contenti siamo contenti metti la fuoco il caricatore dei ricevitori attento quello che si chiude oh si se invece lo premete perchè la macchina rossa è sempre quella più veloce la banca mediolano costruita intorno a te non si può dire che non sia vero qui dopo sappiamo tutti come va a finire stanza d'albergo e... eras non so se posso mettere queste cose ormai youtube è diventato così non so mai se posso fare una battuta o non farla però io poi dopo perdo grip ragazzi devo dire che è una delle cose che mi stanno più a cuore ah si blocca esattura c'è adesso ci arriviamo sembra mettessi a fuoco offerta che si chiama garanzia a vita gruppo militare politico un pochettino estremista non ve lo posso dire perchè altrimenti questo video viene e... au revoir fratello si vede che c'è dal tonico vogliono solo che deve bruciare il mondo a wargasm piace un sacco e adesso glielo tiro sopra niente violenza sui wargasm sono persone sensibili che vanno aiutate nooo guarda c***o ma c***o ma c***o c***o E state sempre contenti perché ci sono pericoli in agguato da tutte le parti Il strumento finale potrebbe essere un nome sostituito di white Sigla che poi partiamo Sigla che poi partiamo Sigla che poi partiamo Prima di partire sigla Sigla che poi partiamo Sigla che poi partiamo Stay hungry E stay hungry Guiderate tutto e stay angry Buon anno nuovo!